Educazione alla sostenibilità anche attraverso la musica. Sabato 5 marzo, esattamente a due anni dal primo lockdown, nell'ambito della rassegna Crescendo in Musica di La Verdi, verrà eseguito la prima assoluta di Si Do Recycle, concerto spettacolo originale per core e orchestra d'archi ispirato al concetto di riciclo. Di che cosa si tratta? Si Do Recycle è una composizione del maestro Sebastiano Cognolato che vuole essere un gioco e una gara tra un'orchestra e un coro. L'orchestra è quella della Verdi, in particolare un'orchestra d'archi e il coro è quello dei giovani della Verdi. L'incontro-scontro è appunto attorno al tema della sostenibilità. Tutta la composizione è divisa in numeri e ogni numero è un materiale. Si parla di metallo, si parla di carta, si parla di vetro. Sia l'orchestra che il coro dovranno interpretare e trasformare in musica questi elementi, questi elementi che sono alla base dei problemi della sostenibilità, alla base dei problemi dell'inquinamento. E la sfida è tra chi riuscirà meglio a interpretare e a comunicare le caratteristiche tipiche di questi materiali. Caratteristiche che non sono né positive né negative, ma è l'uso che ne facciamo che trasforma questi materiali in un problema o una risorsa per la nostra vita. Il coro dei giovani della Verdi è un progetto incredibile, è un coro di giovani, giovanissimi cantanti che è preparato dal maestro Maria Teresa Tramontin. E l'appuntamento tra l'altro si pone in continuità con il grande occhio di riguardo che la Fondazione e l'Orchestra Verdi hanno per tutta la tematica ambientale e per tutta la delicata questione della sostenibilità. A chi è rivolto lo spettacolo? Lo spettacolo è principalmente per bambini a partire da 5 anni, ma siccome il tema della sostenibilità non è un tema che riguarda solo i bambini, ma riguarda tutta la comunità e tutta la società, lo spettacolo potremmo dire che è per bambini da 5 a 99 anni.